È prevista per domattina, mercoledì 5 aprile, la rimozione degli ordigni bellici rinvenuti durante i lavori di Gaia sull'Aurelio Alvarignano. La relazione del secondo reggimento Genio Pontieri dell'Esercito è arrivata in queste ore sui tavoli del comune di Viareggio e della prefettura per coordinare le operazioni. Intorno alle 9.30 i responsabili del procedimento si incontreranno nel commissariato di polizia per un briefing in cui verranno decise le modalità operative e le norme di sicurezza durante l'operazione di disinnesco e rimozione degli ordigni. Si tratta di due granate d'artiglieria da 75 mm e di una mina anticarro caricata con circa 6,6 kg di TNT per cui è stata predisposta un'area di sicurezza del raggio di 245 metri. Secondo le prime indiscrezioni però, data la tipologia degli ordigni e del sito esposto, i militari hanno classificato questo come intervento semplice, sembrerebbe quindi esclusa l'ipotesi di una evacuazione della zona come avvenuto in passato quando vennero rinvenute bombe molto più grandi. Una volta effettuate l'operazione di disinnesco e messa in sicurezza, gli ordigni verranno caricati su un camion e trasportati a Montignoso dove verranno fatte brillare in un sito idoneo.